Benvenuti ancora insieme al telegiornale di Esperia. Oggi la apriamo come tanti, non tutti forse per la verità, ma insomma a noi va molto invece dedicare l'apertura di questa edizione al nostro giornale a quello che è successo drammaticamente, tragicamente esattamente 31 anni fa a Palermo in via D'Amelio, la morte di uno dei giudici istruttori, si diceva all'epoca, magistrati inquirenti di assoluto livello e dimensione culturale, filosofica, sociale evidentemente, parliamo ovviamente di Paolo Borsellino, è stato ricordato con eventi in tutto il mondo, in tutta Italia, in ogni angolo anche della nostra terra, lo ha fatto anche la città di Crotone, la provincia in particolare e noi abbiamo mandato Luigi Saporito per seguire proprio questo evento. L'amministrazione provinciale di Crotone, nella ricorrenza del trentunesimo anniversario della morte del giudice Paolo Borsellino e degli uomini e donne della sua scorta morti nella strage di via D'Amelio, ha organizzato un evento commemorativo presso la sede istituzionale, dove gli studenti sono stati i protagonisti. L'ente intermedio ha voluto dedicare un momento in cui i giovani studenti hanno potuto rivivere la storia di un grande uomo del quale dovrò sopportare sempre vivo il suo ricordo e quello degli uomini e donne della sua scorta che lo hanno sempre accompagnato. La commemorazione del patio della legalità ha visto la presentazione dei lavori realizzati dagli studenti coinvolti nel progetto Giovani, promotori della cultura antica e moderna che l'Unione delle Provincie d'Italia, attraverso il Fondo Azione Provincie Giovani, ha voluto finanziare alla provincia di Crotone per dare modo agli studenti di riflettere sul concetto di cultura. Oggi ricorre il trattoresimo anniversario della strage di Via D'Amelio e noi abbiamo il dovere come istituzione di non solo non dimenticare ma di commemorare e soprattutto trasferire ai giovani, alle nuove generazioni, alcuni concetti che sono alla base del nostro agire quotidiano, ovvero il giudice Borsellino ha sempre operato nella direzione di guardare con particolare attenzione ai giovani e attraverso loro diffondere la cultura del bello e la cultura della legalità. Noi come provincia lo proviamo con tutto il rispetto ad agire nello stesso solco, siamo stati l'unica provincia del sud Italia ad essere stati ammessi a finanziamento dalla UPI, dall'Unione delle Provincie d'Italia, su un progetto a favore dei giovani e con loro abbiamo lavorato con le scuole secondarie di secondo grado del nostro territorio e abbiamo iniziato l'anno scorso intitolando il patio del palazzo provinciale, il cosiddetto patio della legalità al giudice Borsellino, quest'anno proprio nell'ambito del progetto Provincie giovani presentiamo grazie al lavoro straordinario dei ragazzi delle scuole secondarie un murales proprio dedicato alla cultura del bello e alla cultura della legalità. Nel corso dell'evento, alla presenza di tutte le autorità civili, militari e religiosi e degli studenti che hanno preso parte al progetto, si è proceduto alla premiazione degli elaborati artistici creati dagli studenti del Liceo Filolao e dell'Istituto Pertini Santone di Crutone e alla scopertura di una targa. Dottor Forciniti, possiamo dire che è sempre un successo vedere le giovani generazioni in una giornata come questa partecipare così attivamente a un momento importante, una giornata importante, una giornata di ricordo. Ma è fondamentale se c'è un insegnamento in queste occasioni di commemorazione e degli esempi che certe persone sono stati per gli altri, quello di constatare come si perpetuano certi valori e si mettono in moto un meccanismo per favorire l'impegno culturale proprio come crescita e come è antitodo alla illegalità. Oggi ricordiamo la figura di Paolo Borsellino, lei ha ricordato nel suo intervento la grandezza di quest'uomo. È un magistrato che è stato di esempio per tutti, per professionalità, per umanità, per spirito istituzionale. Sicuramente, ecco, io nel mio intervento ho sottolineato pure la lungimiranza nel capire quale sono i meccanismi tecnici più adeguati di contrasto alle criminalità organizzate. E a 31 anni da quella strage, ricordiamo, dice Roberto Chiudo, il Presidente della Regione, ricordiamo con gratitudine questi servitori dello Stato, il cui sacrificio ancora oggi rappresenta un'importante testimonianza di coraggio e di intransigenza nella lotta alle mafie. attraverso la loro memoria si rinnova la consapevolezza che ciascuno di noi, dai cittadini alle istituzioni, è chiamato a fare la propria parte per dare concretezza ai valori fondanti della democrazia nella costruzione di una società più giusta. Questo dunque ha detto con una nota Roberto Chiudo, Presidente della Regione. Ma continuiamo a parlare di legalità. Fra l'altro, insomma, è un gioco di parole. Ecco, legalità, però, ecco, parlatene. E se ne è parlato a Montauro, guardate. Sala gremita di autorità, forze dell'ordine, cittadini a Palazzo Zizia a Montauro per la seconda edizione di Però Parlatene. L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale, ha registrato la ferma posizione del governo Meloni nel contrastare le organizzazioni mafiose. Il sottosegretario all'interno, Vandaferro, ha affermato senza mezzi termini che il governo ha indicato con estrema chiarezza di stare dalla parte del contrasto alle mafie. Noi siamo vigili e attenti, lo stiamo facendo con i beni confiscati, lo stiamo facendo anche oggi, insomma, un ulteriore risultato. Si è registrato a Palermo, ma in tante città italiane, le catture dei tanti boss in Calabria piuttosto che in Sicilia, dire che lo Stato non è una rete, lo Stato arriva, lo Stato c'è. La giornata, moderata dal giornalista Francesco Pungitore, ha visto un susseguirsi di interventi, tra cui quelle del testimone di giustizia Gaetano Saffioti e di Vincenzo Kindamo, poi magistrati Gerardo Dominiani, Camillo Falvo e Graziella Viscomi, hanno sottolineato l'importanza di una formazione ai valori della legalità fin dai banchi di scuola. La drangheta non si combatte solo da una parte, ma occorre che la società, come già avvenuto in passato in altre regioni, si sollevi contro di essa. Anche in questo particolare momento storico, parlare di legalità, di antimafia è importante, poi nel nostro territorio è fondamentale, perché non dobbiamo mai dimenticare qual è il cancro che attanaglia purtroppo questa terra, la nostra economia. Il segretario della Commissione regionale antindrangheta, Antonio Montuoro, ha ricordato la firma dell'intesa tra la Regione e la Direzione Investigativa Antimafia. Ci sarà la possibilità di avere il monitoraggio diretto su tutti quelli che sono, soprattutto i fondi europei che verranno impiegati sul territorio, e quindi un importante deterrente che sicuramente terrà lontano eventuali appetiti criminali da quelle che saranno le risorse che devono far fare il salto di qualità alla nostra Regione. Tragico incidente sulla variante 106 a Roccella Ionica, una persona è morta, l'altra gravemente ferita, una sola auto coinvolta, una Porsche Coupé che come vedete è finita fuori strada in una scarpata e quindi poi si è incendiata. A bordo due persone, dicevamo una sbalzata dalla vettura, gravemente ferita, affidata al 118, la seconda è rimasta coinvolta dalle fiamme e è riuscita ad abbandonare la vettura, ma è deceduta a pochi metri dalla stessa. I vigili del fuoco hanno spento il ruogo, messo in sicurezza l'area e la stessa vettura. Il magistrato di turno ha autorizzato insieme al medico legale il recupero della Salma. La variante della 106 nel tratto interessato è rimasto chiuso al transito fino alla fine delle operazioni di soccorso a seguire le indagini, i carabinieri. E torniamo anche su un'altra vicenda molto triste, insomma il negamento di un bambino appena 4 anni, altri 4 minori, altri 3 maggiorenni, insomma un altro attraversamento del Mediterraneo su un barchino lo scorso 12 luglio. Ebbene rispetto a questa tragedia oggi ci sono delle novità perché sono stati arrestati i presunti scafisti di questa barca. Sono stati arrestati dalla polizia due presunti scafisti dell'imbarcazione di migranti che il 12 luglio scorso si è ribaltata a largo di Lampedusa provocando alcuni dispersi e la morte di un bambino di 4 anni. Il gruppo era stato soccorso dalla nave Dattilo della Guardia Costiera mentre era in viaggio per trasportare 500 migranti dall'hotspot di Lampedusa a Reggio Calabria. Ma per il piccolo, in viaggio con la madre, non c'è stato niente da fare. I due indagati avrebbero agito servendosi di una rete più ampia, in sinergia con altri soggetti che operano sulle coste tunisine e su quelle italiane, incaricati di sovrintendere alle fasi dell'organizzazione della partenza e dell'arrivo. E questo l'impianto accusatorio vergato dal GIP Irene Gianni nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere. I due sono cittadini della Sierra Leone, Mohamed Yorgino Sissei, di 20 anni, e Joseph Contè, di 19, accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e morte come conseguenza dello stesso reato. Ritenuti gli scafisti che hanno condotto l'imbarcazione partita da Sfax, in Tunisia. Il natante, il 12 luglio scorso, si è ribaltato a largo di Lampedusa provocando la morte del bimbo e la scomparsa di altre sette persone, tre adulti ed altri quattro minori. I due sono stati riconosciuti dai migranti superstiti che hanno ricostruito i momenti in cui il barchino si è capovolto. L'imbarcazione, per dimensioni caratteristiche e strutturali, era assolutamente inadeguata ad affrontare il tragitto con a bordo una cinquantina di persone, una circostanza che ha esposto i passeggeri a pericolo concreto per la loro vita. Intanto la nave Cassiopea, proveniente da Lampedusa, ha sbarcato a Reggio Calabria 500 migranti. In 250 sono stati trasferiti nella palestra della Scuola Media del Rione Gallico, mentre il resto del gruppo è stato avviato in altri centri di accoglienza, secondo il programma previsto dal Ministero dell'Interno. Ne avevamo già parlato lo scorso 30 maggio, un'operazione di polizia internazionale, un traffico internazionale di droga. Evidentemente non era finita quell'operazione, perché adesso ci sono ulteriori arresti, due in particolare trovati in Paraguay, sono due calabresi, sarebbero legati a una delle cosche più importanti di San Luca. Il servizio. Ci sono sviluppi nell'indagine a Spromonte Emiliano, diretta dal PM della DDA di Bologna, Roberto Ceroni, con il coordinamento della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Indagine che lo scorso 30 maggio aveva portato all'esecuzione di 41 ordinanze di custodia cautelare e al sequestro di oltre 40 immobili e terreni, di cui 29 in Emilia Romagna e 13 in Calabria, 14 autoveicoli e motocicli, 44 rapporti bancari e 80 fra società, attività commerciali e partecipazioni sociali per un valore complessivo stimato di oltre 50 milioni di euro. La Guardia di Finanza bolognese ha eseguito una misura cautelare personale disposta dal GIP di Bologna Sandro Pecorella nei confronti di un albanese residente in provincia di Parma e contiguo a un'associazione per delinquere dedita al traffico internazionale di droga. In particolare, spiegano i finanzieri, le analisi delle chat criptate hanno permesso di delineare il ruolo dell'indagato, che in più occasioni è risultato accanto ai principali promotori dell'associazione, prestandosi a consegnare ingenti quantità di cocaina. Successive attività investigative hanno poi portato all'arresto in Paraguay di due calabresi. I due, già residenti all'estero, erano riusciti a maggio a sottrarsi alla cattura e grazie alla collaborazione con il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, sono stati rintracciati, arrestati ed espulsi dal Paraguay in Spagna in attesa di estradizione. I due sarebbero uomini di fiducia di Giuseppe Romeo Maluferru ai vertici dell'Andrina Stacco di San Luca, latitante in Spagna dal 2018 e arrestato nel marzo 2021. Sarebbero stati scelti per gestire l'intera rete dei contatti del narcotraffico per conto dell'organizzazione. Allora, adesso apriamo una pagina della politica, diciamo, locale. Parliamo di Acrea, che è la municipalizzata crotonese che si occupa essenzialmente di energie, di raccolta rifiuti, di raccolta differenziata, eccetera. Tutto questo perché? Perché ci sono dei problemi dentro, evidentemente. Due membri del CDA si sono dimessi, poi il sindaco con una propria ordinanza, un proprio decreto, ha revocato la mansione di Presidente all'ingegnere Bevilacqua, Bevilacqua che era fra l'altro una prima scelta di Enzo Voce, adesso ha nominato il nuovo CDA. Insomma, le opposizioni chiaramente non si guardano e vanno all'attacco. Che succede in Acrea? La municipalizzata che si occupa di raccolta rifiuti a Crotone sta vivendo ore difficili dopo le dimissioni dei due membri del CDA e la revoca d'imperio del Presidente da parte del sindaco Vincenzo Voce. Il primo cittadino, dopo aver preso atto delle dimissioni di Maurizio Vulcano e Giuseppina Affatato, ha revocato il Presidente Antonio Bevilacqua e con un nuovo decreto ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione. Alberto Padula, che sarà il nuovo Presidente, Teresa Cortese e Gaetano Liperoti. Alberto Padula ha un'esperienza pluriennale nel management e nella consulenza di direzione, in particolare nel settore dei servizi e dei servizi pubblici. È docente all'Umsa e all'Università di Tor Vergata. Teresa Cortese è avvocato cassazionista, come anche Gaetano Liperoti. Ma le opposizioni vanno all'attacco. Si dicono ripilati i 13 consiglieri comunali nell'assistere ad una guerra tra bande ed un regolamento di conti che vede Enzo Voce promuovere una crociata, tutt'altro che santificata dal pubblico interesse, contro colui che sino a pochi mesi orsono c'era stato presentato come il salvatore. I consiglieri si riferiscono ad Antonio Bevilacqua, le dimissioni del CDA, gli attacchi scomposti di sindaco e fedelissimi rivolti a Bevilacqua in un momento di emergenza igienico-sanitaria dovuta al caldo e all'insufficienza idrica, dalla misura di quanto irresponsabile possa essere la gestione Voce. Teresa Cortese è stata vice sindaco di Peppino Vallone. Di altro tenore le parole nei riguardi del neopresidente Padula. I consiglieri di opposizione sperano che il nuovo nominato vorrà instaurare un reale rapporto di collaborazione con il Consiglio Comunale e i cittadini. Adesso parliamo anche del procuratore della distrettuale antimafia di Catanzaro, Nicola Gratteri, che come sapete ha avanzato domanda per ottenere la responsabilità apicale della procura distrettuale antimafia di Napoli. Ma non è l'unico candidato, ce ne sono altri due e quindi non è proprio facile raggiungere questo obiettivo. Da te che qualcuno parla, ci voglia addirittura a settembre, però il 26 di luglio c'è un ulteriore appuntamento. Giornate intense al CSM per chiudere entro i tempi prefissati il caso Napoli legato alla nomina del nuovo procuratore. Appuntamento fissato per il prossimo 26 luglio, quando l'Assemblea di Palazzo dei Marescialli dovrà esprimersi sui tre candidati alla guida della DDA Partenopea. Come emerso nell'ultima settimana, potrebbe essere necessario un nuovo rinvio ai primi di settembre di fronte a una discussione che si annuncia tutt'altro che a senso unico. I tre in campo sono il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, il procuratore di Bologna, Giuseppe Amato e la ex reggente della procura di Napoli, Rosa Volpe. Si attendono i pareri, poi la consultazione finale che riguarderà tutti gli esponenti di Palazzo dei Marescialli nel tentativo di chiudere un periodo di interregno che va avanti da più di un anno. Nel corso della presentazione della sede partenopea della Scuola di Magistrati, il vicepresidente del CSM, Pinelli, aveva preso l'impegno di chiudere entro l'estate la questione legata alla nomina del capo della procura più numerosa d'Italia. Stando a quanto è emerso fino a questo momento, il tentativo di sintesi sembra essere franato sul nascere. Correnti della magistratura e componenti laiche dell'Assemblea non hanno trovato punti di contatto, proprio alla luce delle differenze dei tre profili, così come sono emerse nel corso delle audizioni tenute dinanzi alla Quinta Commissione lo scorso giugno. Era il 14 maggio del 2022 quando l'ex procuratore di Napoli, Gianni Melillo, ha lasciato l'ufficio partenopeo per andare a guidare la procura nazionale antimafia. E adesso le identità che pure insistono e sono fiorenti nel territorio calabrese, per esempio quella degli Arbreche, c'è stato un incontro proprio con i sindaci dell'arberia. Primo incontro istituzionale a San Demetrio Corone con i sindaci dell'arberia di Calabria promosso dalla Fondazione Istituto Regionale delle Comunità Arbreche di Calabria guidato dal commissario straordinario Ernesto Madeo. È un evento storico, io da quando sono commissario mi sono posto una domanda. È necessario incontrarsi tutti e fare un piano di lavoro. Oggi, questo giorno, è arrivato. Un incontro utile soprattutto per comprendere come non era mai stato fatto prima la visione e il tono delle istanze e delle 30 comunità Arbreche distribuite nei territori provinciali di Catanzaro, Cosenza e Crotone. Dobbiamo confrontarci perché è necessario costruire un programma di lavoro insieme. Il programma di lavoro deve essere il programma di lavoro per il futuro dell'Albania e soprattutto per i nostri giovani. Tra i principali punti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Sindaci ha suscitato interesse alla relazione introduttiva del nuovo commissario soprattutto nella parte in cui ha illustrato il viaggio istituzionale della comunità Arbreche di Calabria in Albania organizzato dalla Fondazione e patrocinato dalla Regione Calabria in occasione della Settimana d'Italia tenutasi nello scorso mese di giugno a Tirana. Ha fatto seguito un intervento della consigliera regionale Pasqualina Straface che ha illustrato agli amministratori presenti lo stato dell'arte circa la modifica della legge 15 in consiglio regionale che rimette al centro della norma l'identità dell'arberia come quelle delle altre minoranze linguistiche presenti in Calabria con una nuova visione di sviluppo socio-economico e culturale per il progresso delle aree interne. Vogliamo puntare proprio sulla lingua Arbreche l'arberia in particolar modo quindi un richiamo verso quella che è l'identità di questo territorio ma una forte specificità una narrazione di un popolo calabrese sul quale noi come regione Calabria vogliamo investire molto ed in questo quadro anche una rivisitazione della legge 15 credo che sia necessaria perché dopo tanti anni va sicuramente aggiornata. E adesso Sapore di Mare ce ne andiamo a Catanzaro vediamo che succederà. Unire mare enogastronomia musica e divertimento è la scommessa degli organizzatori della rassegna Sapore di Mare che dal 10 al 14 di agosto si svolgerà nel porto di Catanzaro. Si tratta di 5 giorni pensati per la settimana clou dell'estate in cui tutta la città potrà godere di buona musica con i concerti di Sergio Camariere Mario Venuti Gio Bastianich della Tammurriata Nera e dell'orchestraccia gustando i sapori del mare grazie ad una serie di sagre e una fiera enogastronomica nella suggestiva Cornice del Porto. La presentazione del progetto dell'associazione Carpe Diem alla quale hanno collaborato l'amministrazione comunale di Catanzaro la regione e associazioni locali si è tenuta alla perla del porto in una conferenza stampa moderata dallo giornalista Carmel Loiacono a cui hanno partecipato il sindaco Nicola Fiorita l'assessore dell'attività economica e turismo e territorio Antonio Borelli e il coordinatore del progetto Antonio Ursino. Diciamo che è un evento che portiamo avanti per la prima volta prendendoci molto perché è un richiamo turistico notevole visto che c'è l'enogastronomia e anche la muschia e il divertimento. È interessante questa iniziativa perché completa un ventaglio di iniziative di tipo culturale legate allo spettacolo e alla promozione del turismo che abbiamo messo come amministrazione in campo per il quartiere di Catanzaro Lido. Ci sono tante tante iniziative fatte in collaborazione con soggetti diversi in queste case una grande sinergia con delle associazioni che hanno dimostrato di mettere il bene del quartiere Marinaro oltre ogni tipo di appartenenza diversa e che per l'appunto per le sue caratteristiche che è completa questa offerta. Tutto questo ad agosto facciamo un passo indietro 30 luglio Coppa Sila. Presentata a cura dell'Automobile Club Cosenza il programma della 42esima edizione della Coppa Sila iconica e storica gara automobilistica della Calabria in programma dal 28 al 30 luglio tra i monti del Gran Bosco d'Italia valida per la serie nazionale caletta trofeo italiana velocità montagna sud e per il campionato italiano le bicilindriche inizia da quest'anno un nuovo corso della competizione che volge a celebrare i suoi 100 anni nel 2024 con il contributo di enti pubblici e privati con cui è stata avviata una partnership lungimirante che riporterà ai vecchi fasti la cronoscalata piamata dal sud Italia 42esima edizione 99esimo anno basterebbe questo per descrivere quello che è la Coppa Sila un evento che racchiude in sé turismo ambiente sport e cultura tra i boschi della Sila meravigliosi unici nel loro genere il rombo delle auto il cuore sportivo della Calabria e non solo ma di tutto il sud Italia che partecipa a questo evento che è conosciuto anche a livello europeo il tutto in una cornice di cultura perché ci saranno anche le auto storiche quindi la cultura del design italiano e non solo la gara conosciuta anche come trofeo Domenico Scola prevede lo start dal comune di Spezzano della Sila in località Acqua Coperta e l'arrivo nei pressi di Monte Scuro nel comune di Celico percorrendo la vecchia statale per Camigliatello Silano ritengo che di non essere il solo legato alla Coppa Sila perché quando si vede una gara di questo genere in un territorio così affascinante che cattura con tanta facilità è molto facile innamorarsene e per me questa scintilla è scoccata tanti tanti anni fa poi ho seguito talvolta anche a distanza per impegni concomitanti la Coppa Sila e quest'anno è soltanto un onore ed un privilegio poterci tornare innanzitutto per il meraviglioso territorio e poi perché siamo in una regione ad altissima passione automobilistica e per le salite in particolare ricordiamo che da questa gara sono passati tutti quanti i più grandi campioni delle salite calabresi che ce ne sono tantissimi e non solo all'incontro con la stampa non ha fatto mancare il suo intervento il presidente dei Automobile Club Italia Angelo Sticchi Damiani che con un videomessaggio ha statolineato un forte apprezzamento per l'iniziativa la professionalità e la lungimiranza degli organizzatori adesso le previsioni del tempo con Trebi Meteo Amici Trebi Meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì che vedrà ancora alta pressione nordafricana sul Mediterraneo centrale e sull'Italia però le temperature iniziano a perdere qualche grado quantomeno nelle regioni settentrionali controlliamo intanto la nuvolosità prevista sull'Italia da quel punto di vista ben poco da segnalare qualche nuvola si fa vedere al nord ma soprattutto a ridosso delle zone montuose specie nelle ore pomeridiane e in effetti nel pomeriggio al nord qualche temporale si formerà su Alpi e Prealpi soprattutto sulle regioni di nord-est però fenomeni che rimangono confinati a quelle zone quindi in definitiva giornata complesso soleggiata ancora molto calda al centro-sud con temperature che nelle zone interne toccheranno ancora i 40 gradi all'ombra ma li supereremo anche al nord invece iniziamo in effetti a perdere qualche grado quindi farà comunque un gran caldo anche qua ma non dovremmo andare oltre i 34-35 gradi e pur sempre qualcosa in meno rispetto alle ultime giornate per sapere nel dettaglio poi cosa capiterà nei giorni successivi vedremo ad esempio nuovi temporali arrivare al nord consultate l'app di Trebi Meteo sono le 14 e 26 grazie per averci seguito vi lascio sempre in diretta a Luigi Saporito e il suo Smart Sport ci vediamo più tardi alle 5 e mezza grazie per averci seguito